Mustafa Canit per tutti i mustacchioni online nel pieno del torneo, come vanno le cose? Ah bene dai Tu ormai qui a San Ben San sei di casa? Sì dai, anche se non van benissimo le cose a San Ben San però vabbè Non hai avuto ancora soddisfazioni? Niente Io ti ricordo a Malta arrivare secondo e vivere una grande emozione Lì hai fatto vedere a tutti le tue qualità Dopo quel risultato cosa hai cambiato? Ma niente, altri risultati piccoli però importanti Futuro? Te lo sei già chiesto? Da grande vuoi fare giocatore di poker? Sì sì, credo di sì Quanto studi al giorno? Boh, studiare non tantissimo, tipo un'oretta però gioco molto Studiare dove studi? Mi piace guardare i forum, leggere le cose, qualche libro Giocare è il primo suggerimento che dai a chi vuole fare questa professione o studiare percentualmente? Più giocare che studiare Perché poi le cose le impari sul campo Esatto In bocca al lupo? Crepi, grazie 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 a tutti